Le gioie vere che potete gustare. 22 maggio 1978. Figli miei diletti, sia pace a voi. Sono sempre qui ad attendere anime che vengano a pregarmi e a diffondere le loro lacrime. Ma, quando si viene per ringraziarmi dei doni ricevuti, il mio cuore gioisce ed io preparo nuovi favori da elargire con abbondanza. Alcuni, infatti, fra di voi sono venuti per ringraziare. Se tutti conosceste ciò che avete ricevuto dalla bontà di Dio per mezzo mio, non cessereste di esprimere la vostra gratitudine. Avete ricevuto grazie materiali e spirituali, doni morali e doni di grazia. Quando potete accostarvi ai sacramenti, partecipare alla Santa Messa, quando ascoltate la parola di Dio, quando la preghiera vi sale dal cuore come un bisogno di comunicare con Dio, sono momenti di gioia che soltanto chi ha fede può capire. Ma ve ne sono altri? Quando, dopo aver ricevuto delle offese, vi sentite la forza di perdonare? Quando ricambiate col bene il male ricevuto? Quando, vincendo voi stessi, andate incontro a chi ha bisogno di voi e sapete rinunciare al vostro egoismo? Provate gioie vere che, chi non ama Dio e il prossimo, non può gustare. La vita è un dono e un viaggio senza ritorno. Si sa però che, oltre il tempo che passa, comincia la vita vera, in cui nessuna lacrima o preoccupazione verrà a turbare la felicità. È questo pensiero che deve rendervi leggero ogni dolore e cara la croce. Chi non ha speranza nella vita eterna non può gioire al pensiero del paradiso. Avverrà che ogni contrarietà prenderà il nome di castigo ed ogni sofferenza sarà insopportabile. Allora sarà facile la disperazione, e non ci sarà pace. La speranza è fonte di gioia. Io desidero infonderla sempre più profondamente in voi, perché la vostra vita sia serena e possiate giungere felicemente al porto della salvezza. Figli, ci sono molti pericoli che insidiano la vostra fede, la vostra carità e la vostra speranza. C'è soprattutto il demonio, che sta in agguato per distruggere l'opera di Dio. Ma ci sono anch'io, che vi sto al fianco e vigilo perché non vi venga a mancare nulla e perché abbiate forza. Io sono il vostro scudo e la vostra difesa. Se vi sentite deboli e vi affidate a me, io vi prendo fra le mie braccia e col mio calore vi riscaldo. Se siete timorosi, io parlo per voi, intercedo per voi. Potete pensare che ciò che vi dico non lo potete toccare con mano, ed è vero, poiché il Signore esige dai Suoi figli un esercizio di fede continuo. Ma non vi pare che l'aver potuto resistere, perseverare e migliorare spiritualmente quando siete stati colpiti da tanti mali, non sia stato un dono di grazia, di forza e di fede dovuta a Dio e alla mia protezione. Figli, siate fiduciosi. Siate fedeli. Siate convinti dell'utilità della fede, e non perdetevi mai di coraggio. Contro il demonio che, instancabile, vi combatte, io invio giornalmente le schiere dei miei angeli, e nonostante tutto sarete vittoriosi. Ora vi benedico in nome della Santissima Trinità, e vi incarico di portare la mia benedizione ai vostri cari, e alle persone che fanno parte del vostro piccolo mondo. Pregate sempre per la Chiesa, per i sacerdoti, perché siano vittoriosi nelle battaglie contro il maligno e contro il male. Ricordate il fatto evangelico? Gli apostoli e i discepoli non seppero liberare quell' indemoniato che era stato loro presentato. Gesù disse che, solo con la preghiera e col digiuno, si sarebbero potuti scacciare quei demoni. aiutateli, figli. Benedico i bambini presenti. Brave quelle mamme che insegnano a pregare ai loro bambini. La fede, che inculcheranno e ravviveranno in loro, sarà il mezzo per renderli osservanti della legge e per avere da essi tante consolazioni. Arrivederci, figli. Chi mi porta molte anime, si rende doppiamente meritevole delle mie benedizioni.